un bando nazionale per il direttore della sanità sport approvato il programma pluriennale il presidente della repubblica a palazzo lascaris in apertura della seduta del 27 settembre la assessore alla sanità ha svolto una comunicazione in aula sul passaggio dell'attuale direttore alla sanità alla regione sardegna su cui si è aperto un ampio dibattito il consiglio regionale ha poi dato il via libera alla delibera che definisce il programma pluriennale 2016 2018 per la promozione delle attività sportive e fisico motorie e per l'impiantistica l'assemblea ha infine approvato all'unanimità un ordine del giorno per chiedere al governo di trattenere dal contributo italiano al bilancio dell'unione europea le risorse necessarie alla ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto e alla messa in sicurezza sismica e idrogeologica dell'intero territorio nazionale in copertina sarà selezionato con un bando nazionale il nuovo direttore generale della sanità piemontese lo ha annunciato l'assessore antonio saitta durante le comunicazioni in aula richieste dai gruppi di forza italia e del movimento 5 stelle sul passaggio dell'attuale direttore alla regione sardegna dopo le comunicazioni si è aperto un ampio dibattito concluso dal presidente della giunta regionale sergio camparino il consiglio regionale ha approvato il 27 settembre la maggioranza il programma pluriennale 2016 2018 per la promozione delle attività sportive e fisico motorie e per l'impiantistica il piano prevede progetti di cultura sportiva inclusione sociale e a favore di soggetti con disabilità previsti inoltre la messa a norma l'ampliamento il completamento e la diversificazione degli impianti nuove strutture in aree carenti o di particolare vocazione l'impiantistica per gare di livello nazionale o internazionale e l'accesso al fondo di garanzia siamo qui oggi per un evento importante che celebra l'impegno e il sacrificio dei geni intesi durante i venti mesi della lotta di liberazione la consegna della metà di lavoro al valore civile massima testimonianza della lotta e del sacrificio della nostra gente per la libertà dell'Italia resterà per la nostra regione un momento con queste parole il presidente del consiglio regionale Mauro Laus ha aperto nell'aula del consiglio regionale la cerimonia con la quale il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha apposto la medaglia d'oro al merito civile al gonfalone della regione Piemonte l'onorificenza è stata attribuita per gli esempi di solidarietà umana dimostrati dalla popolazione piemontese all'epoca della guerra di liberazione la porta di liberazione è divenuta subito rossa di popolo dove tanti pur nelle diversità di genito, fede politica e religiosa scelsero di battersi per riscattare lo loro peso della patria e riguadagnare la libertà il riconoscimento che oggi ci viene conferito è un valore di tutti e per tutti ed è importante che se ne comprenda il senso profondo che non ci faccia posto